Stiamo entrando nel vivo della campagna elettorale con la quale ci viene prospettato il nuovo che avanza. Ma quale nuovo? Se guardiamo la società di oggi, l'economia incerta, la disoccupazione, delinquenza crescente si ritrovano in un vortice senza fine. Vecche e nuove abitudini disorientano il cittadino e ormai si è perso la fiducia nello Stato. Si sogna un avvenire radioso e ci si sveglia regolarmente con i vecchi incubi. I cittadini sono abituati ad essere nello stesso tempo destinatari e protagonisti della politica che è servizio per il bene comune. Questo concetto è fondamentale. La politica a servizio del bene comune, del bene di tutti, non di una categoria, non di un partito, non di un sindacato. La politica è per il bene di tutti. Contrariamente a quello che avveniva nei secoli scorsi, quanto il re era tutto e tutto dipendeva da lui ed era considerato il Dio in terra. Nella Bibbia i governanti erano solo dei servitori. Gesù nell'ultima cena ci dà la sensazione meravigliosa di quello che deve essere il responsabile della politica, di colui che è messo al comando degli altri. Gesù a un certo momento dell'ultima cena si alza, si cincia il fianco con l'asciugamano e si incinocchia e lava i piedi agli apostoli e poi dice avete notato quello che ho fatto? Se io sono maestro e voi mi chiamate maestro perché lo sono, mi sono incinocchiato e vi ho lavato i piedi, quanto più voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. L'autorità è a servizio degli altri. Nel libro di Isaia leggiamo una pagina poco conosciuta ma che dà un segno di quello che erano i tempi. Leggiamo tutti sono bramosi di regali, ricercano mange tangenti, non rendono giustizia all'orfano. Questo lo diceva Isaia ma forse l'avrà detto qualcuno di noi di questi giorni nostri perché la situazione che abbiamo non si differenzia molto da quelle del profeta Isaia. È chiaro che non tutti i politici sono corrotti. Una mela marcia non dice che tutte le mele sono marce e che quindi bisogna tagliare tutti gli alberi di mela. Bisogna allora scegliere caso da caso, persone da persone. Padre Pio si sentiva responsabile dell'impegno politico e quando si trattava di andare a votare era il primo ad andare a votare e voleva che tutti i frati andassero a votare e tutti i suoi figli spirituali dovevano andare a votare. Per il cristiano venire meno a questo dovere di coscienza è una grande responsabilità perché si può correre il rischio che vadano a votare altri leggi che sono contrari alla nostra fede e ai nostri sentimenti e alla nostra cultura cristiana. Grazie a tutti.